Il 16 giugno prossimo la lista civica Ripa Nostra, vincitrice alle ultime elezioni, ringrazierà i propri elettori ma non solo con una festa che si terrà in centro e ovviamente ci sarà il discorso del neosindaco il dottor Ignazio Rucci, una festa che fate ben volentieri visto che avete vinto queste elezioni. Sì certo, la nostra festa sarà nello spirito della sobrietà perché in questi momenti particolari che viviamo e quindi non vogliamo progettare una festa, programmare una festa sempre nello spirito della sobrietà. A maggior ragione che in questi giorni abbiamo vissuto e stiamo vivendo il terremoto nelle zone della regione Emilia Romagna, quindi io volevo ringraziare i nostri concittadini e così stare un po' insieme per avere anche la possibilità di ricevere da parte loro anche idee per il nostro territorio. E quindi è solo un annuncio, mangeremo un po' di porchetta e un po' di musica, quindi nulla di particolare, quindi volevo dare la possibilità di annunciare questa organizzazione di una serata di ringraziamento nella piazza del nostro convento che è stato un life motive della nostra campagna elettorale. Grazie. 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 Grazie.